...67, proveniente da Roma 10 e diretto a Napoli Centrale, ed è ore 14 e 04, è il suo agitato 1. Latina, stazione di Latina, ferma, centro-mano, prima, non costa 9, nonostante... E li voi dovete vedere questi? Certo. ...diporga, in culo, è la prima, nonostante, 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 nonostante. ...d'interno, alta 9, nonostante... Ti va di venire da Monce? Ehm, che fate? Torniamo di FIFA. Che palle! Dove hai la moto? Ehm, di là, stai la bici. Ehm, ci sentiamo dopo? Sì. Ok. Ciao. Ciao. Grazie.